Sì, se ne è uno sulla sinistra Bravo Eh, va bene Guarda un carro qua Che cazzo, c'è Guarda che c'è il cazzone con il lanciarazzi Sì, mi ha appena colpito da lì Ecco là, in fianco tuo Dietro ce ne sono due E ce n'è un altro perché c'è anche un medico Sì